Ciao bambini! Oggi impareremo i numeri in italiano, in inglese e in lis. Pronti? Uno, one, due, tre, tre, quattro, four, cinque, five, sei, six, sette, seven, otto, eight, nove, nine, dieci, ten, uno come un pesciolino, uno, due, due come due rane, uno, due e tre come tre ragni, uno, due, tre, quattro come quattro lumache, uno, due, tre, quattro e cinque come cinque api, uno, due, tre, quattro, cinque e sei come sei coccinelle, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette come sette farfalle, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto come otto formiche, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove come nove libellule, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci come dieci cavalli marini ciao iscrivetevi al canale